Buon lunedì a tutti. Quest'allenatore non bisogna dire niente da aggiungere, io mi ricordo che sta facendo lo stesso percorso per voi e De Zerbi il percorso che ha fatto, per me è come il percorso che ha fatto Zeman all'inizio, una vittoria, sconvitte, sconvitte, sconvitte a definire, eppure noi abbiamo creduto a Zeman, voi invece questo percorso l'avete fatto con De Zerbi. Allora quest'allenatore sarà un peccato se se ne andrà da Foggia perché adesso stiamo vedendo il lavoro che sta svolgendo e lo sta svolgendo bene, pure all'inizio e si sta dimostrando con il Foggia, lo sta facendo bene. Questo gruppo di questi giocatori si sono cominciati a sistemarsi, a entrare nell'ottica dell'allenatore e entrare nell'ottica del gruppo, fare gruppo, perché fare gruppo è importante, se una squadra fa il gruppo le vittorie si vedono, si comincia a vedere le vittorie giocate con i giorni di riposo, questi ragazzi già stanno mettendo tutto, hanno dimostrato veramente che questi ragazzi onorano la maglia e onorano la città di Foggia. Un complimento va ai tifosi che hanno accorto i giocatori con tutti i doveri perché hanno capito che i ragazzi ci sono e ce la stanno mettendo tutto, di cui quando perdono non c'è neanche da dire niente perché è normale, ma stanno dando l'anima e si sta vedendo il gioco. Diciamo che nei 90 minuti si vede che la difesa non riesce a tenere il passo, si fa capovolgere subito perché dopo dell'1 a 0 subito è stato un capovolto di 2 a 1, somigliava che la partita andava a finire male, invece no, poi sempre Curci la sua doppietta ci ha ammesso, i rigori per me c'erano in entrambi le squadre, c'erano i rigori per me, non c'è niente da riclamare sui rigori. E poi abbiamo dato una svolta del 3 a 2 grazie a una bella giocata. Questi giocatori ce la stanno mettendo tutto, diciamo che la difesa che nei 90 minuti ha dei momenti di calo, però ci sono alcuni giocatori che non entrano ancora nel gioco, nella visione dell'allenatore, fanno degli errori, vabbè non è da perdonare o da perdonare, possiamo anche perdonare, però queste sono partite che devi prendere i punti e le abbiamo presi, però se la partita andava a finire male 2 a 1, questi giocatori venivano bestagliati, di cui questi giocatori devono cercare di non fare troppe errori perché sono sempre gli stessi giocatori, sempre loro che fanno sempre gli errori, che andiamo a finire che ce ne calano uno, due, tre, uno dietro l'altro. Noi poi siamo riusciti a sistemare la partita grazie agli attaccanti, grazie al gioco che abbiamo espresso più al secondo tempo. Il primo tempo è stato un po' così così, più del monopoli che non da noi, oltre il gol che è uscito dopo di 5 minuti, però il monopoli dopo ci ha messo sotto. Poi siamo riusciti a fare il miracolo e a portarci tre punti, solo che dico che ci sono alcuni giocatori che insomma ogni domenica fanno sempre gli stessi errori, è matematica, cioè si devono un po' svegliare perché sinceramente a fare sempre gli stessi e loro ci fai preoccupare. Comunque questi ragazzi, i ragazzi, l'allenatore, la società che ha creduto a questi ragazzi e a questo allenatore. Complimenti ai tifosi che hanno accorto la squadra come di dovere. Non siamo più a triticare perché insomma i ragazzi ci sono, l'allenatore c'è, il gruppo c'è, si sono entrati nell'ottica, hanno fatto gruppi e si sono affidati. Il gioco nei 90 minuti lo riusciamo a vedere, sì nell'attacco, sì nelle fasce, sì in registra, sì nel centrocampo. La difesa, abbiamo qualche problema in difesa, sì, però oggi li possiamo perdonare, però dobbiamo essere più preparati in difesa perché è lì dove noi manchiamo proprio di concentrazione. è stato un bel foggio, a me mi ricorda quando era venuto Zemma, per voi dei zebbi. Quando si è andata questo allenatore, perché questo allenatore adesso, continuando con questa strada, che questo allenatore, come all'inizio, che come lui nel suo percorso all'inizio, come allenatore si sta dimostrando e sta facendo, diciamo da cavia al nostro foggio, sta dimostrando proprio la sua bravura. È riuscito a prendere questo gruppo di giovani, a fare fiare all'insieme, a fare gruppo, a far entrare nel suo gioco, nel suo modello di gioco e a portare avanti pure con all'inizio le critiche, però è riuscito a costruire e far vedere ai diffusi che il Foggia c'è, questo gruppo c'è, e a pianare tutte le critiche degli altri, compresa la mia, perché pure io ho criticato. E ci sta facendo vedere il lavoro svolto dall'allenatore. Nella settimana di allenamenti, i lavori che svolgono, la preparazione che sta facendo a questi giocatori, questi ragazzi, e questi ragazzi lo stanno mettendo in campo, in mostra. All'inizio, non vi scordate che dopo la prima vittoria poi abbiamo avuto quattro di fila, e insomma non è stato bello, è stato credito assai, di cui non vedevamo ancora nulla, però erano troppe partite. Adesso ci comincia a rilassare il Foggia e a far vedere il suo gioco. Io spero che questo allenatore rimarrà sempre a Foggia, perché adesso stiamo vedendo il suo lavoro. Partite per partite vediamo il suo lavoro e ogni giocatore riesce sempre a svolgere. Meno male che teniamo degli attaccanti che sono bravi, si stanno dimostrando all'altezza. Un centrocampo molto preparato, solo che pecchiamo un po' in difesa. In difesa pecchiamo un po', dobbiamo migliorare in difesa. Io spero che la società che a gennaio riesce a comprare due difensori e un registra che ci servirebbe. Due difensori ci servono, un registra pure, però con un po' di esperienza. Spero che la società riesce a fare questo miracolo, perché la squadra è c'è adesso. Ottima squadra, ottima allenatore, tre punti importanti. Riusciamo a tenere il passo. Ottimo Foggia, ottimo ragazzi, complimenti, number one, sembra Forza Foggia fino alla fine, a me fino alla morte. Grazie a tutti.